Tariffe troppo alte, aumento degli stalli ingiustificato per non parlare delle mancate agevolazioni per gli invalidi e per i cittadini in difficoltà. Sonora la bocciatura di Tiziano Di Clemente, coordinatore del PCL, alle linee guida dettate dal Consiglio Comunale di Isernia riguardanti il bando da mettere a punto per esternalizzare il servizio delle soste a pagamento. E per questo Di Clemente chiede l'immediata revoca della delibera approvata nel corso dell'ultima seduta della Sise Civica. Come è noto l'idea del Comune è quella di incrementare il costo del ticket da 60 centesimi a 80 e il numero dei parcheggi a pagamento da 565 a 827. Un ulteriore balzello sulle classi lavoratrici locali, soprattutto pendolari, afferma Tiziano Di Clemente, spropositato per la specifica realtà locale già impoverita dalla macelleria sociale dei vari governi e giunte di destra o del PD degli ultimi anni. Facendo due condi emerge che 827 posti, se già fossero impegnati in media già per sole quattro ore al giorno, afferma l'esponente del PCL, su 312 giorni all'anno, darebbero un ricavo anno stimabile in oltre un milione e 32 mila euro, a fronte di un canone annuo di soli 150 mila euro. Ovviamente l'affare aumenta notevolmente, aumentando le ore medie di fruizione. Come è probabile che sia, e con l'aggiunta dei posti in abbonamento, non solo. Tutte queste risorse non andranno al Comune per incrementare occupazione e servizi, ma solo a profitto della società privata. Né si comprende perché il Comune non assuma la gestione diretta. Per questo motivo il PCL parla di una decisione illegittima per assenza o carenza di interesse pubblico, oltre che iniqua socialmente.